L'integrazione di Kip Fold 2800 con il software Kip System K assicura un flusso di lavoro ininterrotto per i sistemi di stampa della serie a colori Kip e della serie in bianco e nero 70. Kip Fold 2800 offre una qualità di piegatura all'avanguardia, un'esatta consegna di piegatura, pacchetti precisi e documenti piegati in prima piega con una precisione millimetrica. Kip Fold 2800 è un sistema di piegatura di documenti di grande formato totalmente automatizzato. Il design compatto di Kip Fold 2800 automatizza la piegatura e l'impilaggio di documenti fascicolati ed è totalmente integrato con le applicazioni software Kip System K e con i driver della stampante. Gli strumenti di piegatura online Kip comunicano in maniera intelligente con le stampanti Kip, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto. Kip rappresenta un vero passo avanti nella semplificazione delle operazioni di piegatura. L'esclusiva tecnologia Kip di riconoscimento del blocco del titolo permette di ruotare automaticamente un documento e di scegliere la misura di arrotolamento adatta a generare un documento piegato. Kip Fold 2800 piegherà documenti tecnici in prima piega o in prima e seconda piega in un unico passaggio, in un pacchetto di 210x297 mm o 210x305 mm. I sistemi Kip massimizzano la produttività della stampante, impilando o piegando efficacemente documenti di dimensione standard. Un sistema di arrotolamento ultrasilenzioso e affidabile assicura delle piegature accurate indipendentemente dall'orientamento di stampa. La capacità di piegatura online è coordinata dal controller Kip incorporato, che gestisce l'intero flusso di lavoro di copiatura e stampa di rete e automatizza ogni funzione di recupero del lavoro. Con un rapido tocco al pulsante del trasportatore, i documenti saranno ordinatamente impilati e pronti per essere maneggiati. Kip Fold 2800 è dotato di base di capacità di piegatura offline. Mettendo in pausa la coda di stampa, viene attivato un comodo schermo touch facilmente accessibile, che permette all'utente di non venire interrotto dalle stampe di rete. Lo schermo touch a colori permette agli operatori di scegliere una delle preimpostazioni e di fornire i documenti. Sono disponibili fino a 99 preimpostazioni per piegature in prima o prima e seconda piega per una serie di comodi pacchetti. Mentre tutte le stampanti Kip serie 870 permettono ottime opzioni di impilaggio, Kip Fold 2800 ha l'impilaggio piatto integrato fino a 100 fogli di misura standard. Kip 900 utilizza l'impilaggio piatto integrato. Kip Fold 2800 impila fino a 100 pacchetti sul sistema di trasporto e fino a 20 documenti piegati in prima piega sul carrello, in base alla quantità di pannelli. È da sottolineare la precisione, con cui ogni pacchetto è piegato a Z e come può essere ripiegato in un pacchetto ordinato. Una varietà di stili di piegatura comprende prima piega, piegatura a pacchetto, a libro e a busta. Per le piegature a libro e da pinzare viene lasciato un margine fino a 30 mm. In molti casi i documenti inseriti in qualsiasi direzione si prestano ai pacchetti panorama o ritratto. I pannelli o i documenti piegati in prima piega possono variare da 180 a 310 mm. La lunghezza standard per una piegatura in prima piega è di 6000 mm, ma è anche disponibile una piegatura in prima piega illimitata opzionale. Kip Fold 2800, ideata per piegature in produzione, garantisce una continua integrazione con i sistemi di stampa delle serie a colori Kip e bianco e nero 70. Invitiamo a visitare Kip.com per maggiori informazioni.